Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento online. Oggi parliamo di un tema particolarmente sentito e che porta via molto tempo alle realtà sportive, ovvero tutta la fase di iscrizione. Andremo oggi a vedere come semplificare questo momento delicato concentrandoci in modo particolare sulla gestione dei pagamenti. Con me per questa sessione di webinar ci sono le colleghe Matilda Liseccecchini di Team System Pay e Marta Zanutto di Sportivi in Cloud. Quindi con loro andremo a vedere quali sono le soluzioni digitali per rendere il pagamento qualcosa di semplice e veloce e poi quali sono gli strumenti per gestire nel modo migliore tutto il processo di iscrizione. Il webinar oggi dura all'incirca 60 minuti. Come sempre potete scrivere le vostre domande in chat selezionando a tutti i coordinatori in modo che riusciamo a vederle sia io che Marta e Matilda e al termine della presentazione cercheremo di dare risposta a tutti i vostri dubbi. Aggiungo anche che il webinar è registrato quindi nei prossimi giorni riceverete sia le slide che presentiamo che la registrazione dell'evento. Faccio una breve premessa per chi ancora non ci conosce, noi siamo Team System, siamo una tech company italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il business di imprese e professionisti. Logicamente imprese e professionisti inteso in senso ampio, quindi comprendiamo anche tutto quello che riguarda il mondo associativo, il mondo sportivo. La nostra mission è quella di portare il digitale all'interno di ogni realtà. Questo chiaramente significa non solo andare a modernizzare il paese, modernizzare le organizzazioni rendendole più competitive, ma l'impatto è logicamente importante sull'ambiente e sulle persone. Sull'ambiente perché permette di ridurre dei processi che vanno appunto a influenzare in modo negativo, che impattano in modo negativo sull'ambiente. Sulle persone questo si rivela particolarmente sentito nel mondo dello sport, nel mondo associativo, poiché appunto poter delegare agli strumenti digitali e agli strumenti informatici buona parte del lavoro meccanico consente di liberare le risorse da valorizzare, quindi dare più valore alle relazioni tra le persone, alle relazioni con i propri soci e quindi di sviluppare quella fase di relazione che poi è alla base di tutto quello che segue in ambito sportivo. Noi ci rivolgiamo a piccole e medie imprese, a professionisti, a startup e poi come vedremo con Matilda abbiamo anche un servizio digitale che permette la gestione dei pagamenti. Nello specifico io e Marta facciamo parte dell'area We Are che si occupa di sport e associazioni, quindi i nostri interlocutori sono principalmente palestre, centri fitness, poli sportive, società sportive e poi tutto il mondo delle associazioni non profit. Questo significa che quando parlate con noi parlate con dei professionisti formati e con esperienza sul vostro settore specifico, quindi sappiamo quali sono le problematiche, sappiamo quali sono le necessità, quindi avete davanti a voi del personale dedicato proprio al vostro ambito. Nello specifico le soluzioni software che proponiamo per il mondo dello sport e delle associazioni sono terzo settore in cloud che è il software per la gestione operativa e amministrativa degli enti no profit e di tutto quello che riguarda il terzo settore. Sportive in cloud è il cugino diciamo di terzo settore in cloud dedicato però al mondo delle realtà sportive, quindi associazioni sportive, poli sportive, società sportive dilettantistiche e poi wellness in cloud ed evolution fit sono invece più rivolti a palestre, piscine, centri sportivi, centri personal, il primo per la gestione operativa, quindi da quello che riguarda l'anagrafica dell'utente, il CRM, il controllo accessi e evolution fit invece per la parte dedicata alle schede di allenamento. Oggi ci concentriamo in particolare su sportivi in cloud, sportivi in cloud è un software come dice il nome in cloud quindi raggiungibile da qualsiasi postazione connessa a internet, è sempre allineato alle normative che sappiamo sono mutevoli e in continua evoluzione e consente una user experience molto semplice in quanto l'interfaccia e le funzioni proposte in sportivi in cloud sono utilizzabili anche da chi non ha particolari competenze informatiche piuttosto che contabili. Partiamo da un piano dei conti già strutturato per le realtà sportive che però ammette parametrizzazioni e personalizzazioni a seconda delle specifiche esigenze. Tutti i dati che avete su sportivi in cloud sono poi esportabili anche in pdf e in excel e quindi questo consente poi di andare a gestire in modo efficace anche la comunicazione con i commercialisti. Da non sottovalutare questo aspetto sportivi in cloud è una soluzione che può essere utilizzata sia dall'associazione che dal commercialista che segue appunto realtà del mondo sportivo. Il commercialista può utilizzare sportivi in cloud avendo a disposizione un proprio account per poter appunto analizzare i dati dell'associazione oppure può entrare con le proprie credenziali nell'account dell'associazione quindi quello poi a discrezione di come vogliamo gestire la relazione, come vogliamo gestire il tutto. Sportivi in cloud è una soluzione unica che consente allo stesso tempo di gestire tutta la parte operativa di raccolta delle anagrafiche, di iscrizioni, la parte amministrativa quindi con i pagamenti, con tutto quello che riguarda le entrate e le uscite, la contabilità avanzata, gestisce poi anche la parte di compensi e rimborse spese dei collaboratori, dei volontari e dei lavoratori sportivi, gestisce il magazzino e poi ha tutta la reportistica quindi con rendiconti e bilanci. Si tratta di una soluzione Team System quindi è integrata nativamente con altre soluzioni del gruppo ad esempio con TS Digital per la fatturazione elettronica che risulta quindi inclusa nel gestionale con bilanci in cloud e poi per quanto riguarda come dicevamo prima l'aspetto più operativo all'interno della palestra del centro sportivo con Wellness in cloud. Una nota particolare sulle integrazioni merita TS Pay. Come vedremo con Matilda brevissimo TS Pay è la soluzione di pagamento digitale di Team System perfettamente integrata in sportivi in cloud che consente quindi di attivare e di offrire ai propri utenti delle modalità di pagamento digitali. Questo nel mondo sportivo viene particolarmente utile perché consente di gestire le iscrizioni online quindi attraverso un modulo personalizzabile creato da sportivi in cloud che poi può essere caricato sul sito dell'associazione. da lì può essere gestito il pagamento con carta di credito, conto corrente bancario, Google Pay, Apple Pay e Paypal sia in sede che online. E poi c'è tutto il tema della rateizzazione delle rette. La rateizzazione è estremamente vantaggiosa nelle realtà sportive perché permette all'utente di assicurarsi l'iscrizione per l'intero anno però andando a rateizzare le quote nei mesi successivi. Quindi l'associazione può contare su incassi sicuri, deve rincorrere gli utenti per il pagamento delle quote e inoltre grazie a Paypal è possibile attivare anche il paga in tre rate in modo che l'associazione incassa subito l'intero importo ma per l'utente il pagamento risulta dilazionato. Adesso andiamo a vedere con Matilda più nel dettaglio come funziona TS Pay, che cos'è e che vantaggi riporta alle associazioni sportive. Quindi lascio la condivisione a Matilda. Grazie Serena, mi chiedo se mi sentite, vedete le slide? Sì Matilda, ti confermo. Ok, perfetto. Allora, come ci anticipava Serena, intanto faccio un passo indietro per dirvi chi è TS Pay. Team System Payments è una società del gruppo Team System, fa parte appunto della tech company Team System, ma siamo una società regolamentata. Questo significa che Team System Payments ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da Banca d'Italia per operare come un istituto di pagamento. Questo significa che TS Pay all'interno dei gestionali Team System, in tutto il mondo dei gestionali Team System, appunto come vedremo oggi anche in Sportive in Cloud, mette a disposizione di tutti gli utenti del gestionale servizio di pagamento. Una serie di servizi di incasso e pagamento che sono integrati completamente all'interno dei processi gestionali. Come vediamo già sono tanti clienti che hanno abilitato questo metodo di pagamento a partire da tutti i loro gestionali per incassare in maniera digitale, per sfruttare tutto quello che è il mondo dei pagamenti digitali, sia per la parte del servizio di incasso, quindi per incassare dai propri clienti, dai propri utenti, sia per la disposizione di pagamento o il servizio di accesso ai conti. Per collegare i conti correnti e avere una vista aggregata di tutto quello che è la movimentazione dei conti correnti e usufruire anche per i software integrati della riconciliazione. Vi ho fatto questa introduzione per dirvi che TS Pay offre tre servizi. Oggi approfondiremo nello specifico il primo servizio, quindi il servizio di incasso, che è integrato completamente all'interno di tutto il processo gestionale di Sportivi in Cloud e vi permette di gestire gli incassi in maniera digitale. Ma TS Pay completa anche di altri due servizi, che sono il servizio di pagamento e il servizio di accesso ai conti e riconciliazione, che come vedremo non sono integrati all'interno del processo gestionale, ma qualora vi possano tornare utili, sono disponibili all'interno della piattaforma TS Pay, ovvero della dashboard TS Pay. Ovviamente diamo principale enfasi a quello che è il servizio di incasso, che è quello che sicuramente vi risulta più utile per tutta la vostra operatività. Questo perché il servizio di incasso, grazie a TS Pay, mette a disposizione per le vostre società, per i vostri enti sportivi, una modalità di incasso digitale, dandovi la possibilità di mettere a disposizione dei vostri clienti una nuova modalità di pagamento. Quindi i vostri clienti, i vostri utenti possono pagare attraverso diversi metodi di pagamento, tutti a disposizione sotto il cappello dei metodi di pagamento TS Pay. E questo vi permette di gestire tutto il mondo dei pagamenti, tutto il mondo degli incassi in maniera completamente digitale. Vi permette di gestire le iscrizioni online, mettendo a disposizione degli utenti diversi metodi di pagamento, quindi possono scegliere se pagare con carta di credito o debito di tutti i circuiti, a debito diretto in conto corrente, inserendo il loro IBAN, anche Apple Pay e Google Pay per pagare con i wallet digitali, quindi per pagare comodamente anche attraverso smartphone e PC, e anche PayPal, come ci anticipava Serena, che questo vi permette con un unico strumento di ricevere subito l'importo pagato dall'utente finale e dargli la possibilità di rateizzare quella che è la quota, quello che è il pagamento, quindi voi ricevete subito l'importo che ha pagato e PayPal si occupa di andare ad addebitare le tre rate agli utenti finali. Questo vi permette anche di aumentare quello che può essere un ticket medio, quello che può essere la spesa dell'utente finale e questo lo potete fare sia tramite la gestione di PayPal in tre rate come metodo di incasso messo a disposizione da TSPay, quindi non dovrete dotarvi in autonomia di un account PayPal, ma sarà tutto gestito da TSPay, oppure lo potete fare anche attraverso la dilazione di pagamento messa a disposizione direttamente da TSPay, che vi permette di dare la possibilità ai vostri clienti e ai vostri utenti di rateizzare l'importo finale, se pensiamo a un abbonamento che può essere annuale, che può essere gestito in maniera rateale, quindi incassato da voi in maniera rateale, dando così la possibilità di rateizzare l'importo. Quello che fa TSPay è mettere a disposizione queste modalità di incasso per permettervi poi in automatico di andare ad addebitare sul metodo prescelto dal pagatore quella che è la quota prevista per quella rata, quindi in automatico l'incasso viene anche contabilizzato e viene messa la ricevuta corrispondente in modo tale che voi siate sempre aggiornati, il vostro software sia sempre aggiornato sullo stato dei pagamenti, quindi una volta che TSPay va a incassare dai vostri clienti, dagli utenti finali, dai pagatori, il vostro software è sempre aggiornato sullo stato dei pagamenti. Successivamente andiamo ad approfondire anche questa parte del servizio di incasso, intanto abbiamo fatto un'introduzione, vorrei introdurvi anche quelli che sono il servizio di pagamento dalla dashboard di TSPay per permettervi di disporre bonifici direttamente dalla dashboard di TSPay che è un servizio aggiuntivo che una volta che voi avrete effettuato l'onboarding su TSPay vi sarà data a corredo, così come il servizio di accesso ai conti che vi permette di avere in maniera aggregata, come vedete qua nell'immagine sulla destra, una vista aggregata di tutti i vostri conti correnti. Come funziona ancora meglio, approfondiamo ancora meglio come funziona il servizio di incasso? Che cosa fa TSPay? TSPay è integrato all'interno del processo gestionale, quindi una volta che voi sarete andati ad emettere un form di iscrizione oppure avete necessità di incassare, TSPay va a generare un link di pagamento che voi potete utilizzare in qualsivoglia maniera, quindi inviarlo su WhatsApp, inviarlo tramite email oppure in automatico verrà inserito all'interno di quello che è un form di iscrizione e vi permette di dare la possibilità al cliente di pagare con un click andando a scegliere tra quelli che sono i metodi di incasso messi a disposizione da TSPay al pagatore finale e in automatico lui potrà andare a completare un pagamento online come fa con tutti gli acquisti online andando a scegliere tra i vari metodi di pagamento messi a disposizione da TSPay. Questo vi permette di incassare in maniera immediata quello che può essere una quota associativa, una quota di partecipazione a un corso, ma anche di poter andare a rateizzare quelli che sono i pagamenti magari più sostanziosi, quindi permettendo all'utente finale di poter andare a dilazionare questo pagamento tramite il pagamento ricorrente o il pagamento rateale, quindi potete scegliere anche insieme al vostro cliente se andare a creare delle rate a scadenze predefinite oppure andare ad avviare un abbonamento ricorrente come quello che può essere un abbonamento ad una piattaforma online, a un Netflix che andrà ad addebitare in automatico sul metodo di incasso scelto dal pagatore quella che è la rata prevista, l'importo previsto per quel mese, andando così a rateizzare quello che è un importo più importante, dà la possibilità appunto di alleggerire quelli che sono i pagamenti, non rendendoli più in un'unica soluzione, ma appunto rateizzandoli in diverse rate, in diverse scadenze. E quindi come vi dicevo appunto in automatico il debito della rata viene gestito da TSPay, una sola volta l'utente che va ad inserire quello che è il metodo di pagamento, quindi va ad inserire gli estremi della carta di credito piuttosto che gli estremi del suo conto corrente, quindi l'Iban e TSPay in automatico va ad addebitare alle scadenze predefinite dal software quello che è l'importo definito in quella rata. Tutto questo gestibile online, totalmente senza la necessità che il cliente si iscriva ad alcun servizio, appunto inviando per email su WhatsApp, quindi totalmente in maniera digitale, totalmente online, oppure potete gestirlo anche in presenza perché TSPay ha in dotazione anche un post digitale che è collegato appunto a un QR code che potete mostrare agli utenti per un pagamento immediato in presenza per esempio. E una volta che il cliente ha concluso il pagamento, tutte le informazioni vengono registrate in automatico con il gestionale perché appunto tutto il servizio di TSPay è completamente integrato con i processi gestionali. Come vi dicevo, come vi anticipavo, TSPay mette a disposizione di tutti i suoi utenti un post che non è fisico ma è digitale che è rappresentato da un link collegato alla vostra utenza e che può essere esposto anche sotto forma di QR code sempre collegato alla vostra società, al vostro ente e chi riceve il link, chi inquadra il QR code atterra su una pagina di pagamento nella quale deve inserire l'importo del pagamento come se fosse un vero e proprio post ma vi dà la possibilità di avere un post che senza dotarvi di dispositivi fisici e che vi permette di ricevere infiniti incassi. Infatti in questo caso il link del post digitale è univoco e universale e vi permette di ricevere infiniti pagamenti per permettervi di gestire anche incassi in presenza, quindi avete la possibilità anche di gestirlo in maniera multipla, quindi il link è univoco e quindi potete inviarlo a diversi utenti, diversi pagatori che vi potranno pagare, potranno completare il pagamento anche qui con carta di credito, con Paypal o con addebito diretto in conto, quindi con qualsivoglia metodo di pagamento messo a disposizione di TSP e vi permette di gestire tutto quello che è il mondo degli incassi anche in presenza. Come vi dicevo appunto TSP è integrato completamente all'interno del gestionale. Quello che fa TSP è andare ad aumentare il livello di automazione degli incassi mettendo appunto a disposizione degli utenti un link di pagamento completamente digitale che a differenza di quello che può essere un semplice pay by link è integrato all'interno di tutto il processo gestionale, quindi va a integrarsi a quella che è l'emissione dei moduli di iscrizione per esempio o quella che è il pagamento delle quote di un corso, dell'iscrizione e ancora a differenza appunto del pagamento elettronico standard, quindi di quello che è un post fisico, sicuramente il livello di automazione aumenta andando a diminuire la manualità, l'operatività perché appunto come vi dicevo una volta che il cliente finale che l'utente finale ha pagato, questo viene registrato in automatico all'interno del software perché appunto si parla di dialogo tra TSP e Sportive in Cloud che si parlano e sono nati appunto per dialogare, per far sì che tutto il processo gestionale sia integrato con quello che è il servizio di incasso per agevolarvi tutto quello che è il servizio di gestione degli incassi e dandovi anche a disposizione la possibilità di essere sempre aggiornati su quello che è lo stato dei pagamenti, delle quote di iscrizione o di tutto quello che è il mondo della gestione degli incassi. Come vi dicevo una volta che avete completato l'onboarding su TSP, se non l'avete già fatto o se l'avete già fatto, TSP vi dà a disposizione una dashboard aggiuntiva, se vogliamo un back office per la quale appunto avrete la possibilità di avere tutto sotto controllo su questa piattaforma aggiuntiva, ovviamente la forza è l'integrazione trasportiva in cloud di TSP, ma se vorrete raggiungere anche quelli che sono i servizi di pagamento, oppure il servizio di accesso ai conti per collegare i vostri conti correnti, oppure anche da qua creare richieste di incasso ma ovviamente si perde un po' il valore perché non è integrato all'interno del processo gestionale, potete farlo, potete anche qua monitorare tutti quelli che sono gli incassi, ma soprattutto potete monitorare e impostare il conto di accredito perché TSP funziona in questo modo, appunto TSP incassa per voi e successivamente va ad accreditarvi tutti gli incassi sul vostro conto corrente che sarete andati appunto ad impostare e a controllare anche all'interno della dashboard di TSP. Quindi per ricapitolare, per chiudere un po' il cerchio di quella che è l'integrazione tra TSP e sportivi in cloud, vediamo un po' quelli che sono i punti di forza dell'integrazione, quindi sicuramente la semplificazione perché riduce tutta l'operatività e la complessità connessa al mondo degli incassi e connessa al mondo della contabilità, andando ad automatizzare tutto quello che è il processo di incasso che vi permette di dimenticare quelle che sono le scadenze, come diceva prima Serena, senza dover rincorrere gli utenti e i pagatori che devono pagarvi le rate successive di una quota per esempio, ma avviene tutto in maniera automatica, quindi è TSP che vada a debitare in automatico le rate successive senza appunto bisogno di rincorrere gli utenti, aumentando anche il ticket medio di spesa grazie alla possibilità di rateizzazione e riducendo appunto tutto quella che è la manualità e la complessità, dandovi così la possibilità di offrire ai clienti nuovi modelli di incasso, consentendo agli utenti di avere massima flessibilità nei pagamenti, nella scelta del metodo di pagamento e facilitandogli appunto quello che è il saldo delle quote, andando ad impostare la rateizzazione automatica e offrendo appunto un servizio che consente massima flessibilità sia a voi perché appunto vi rende tutto molto agevole e molto veloce e molto sicuro, perché appunto siamo un istituto di pagamento vigilato da Banca d'Italia, quindi tutto il mondo degli incassi avviene in sicurezza e offrire anche agli utenti finali un servizio nuovo, comodo e sicuro per pagare tutto direttamente online. Andando a sollevare sia voi che i vostri clienti dall'onere di ricordarvi le scadenze, quindi andandogli a proporre un nuovo modello di incasso vero e proprio. Ovviamente la potenzialità principale è appunto il dialogo tra la piattaforma di TSP e la piattaforma di Sportive in Cloud che sono sempre a vostra disposizione anche per quanto riguarda l'assistenza e parlano tra di loro anche per rendervi il tutto più semplice possibile. Come vi dicevo per attivare il servizio vi basterà navigare nella sezione dedicata del software e completare tre semplici passaggi, ovvero andare a creare un vostro account, andare ad inserire i dati dell'ente, i dati della società e andare a firmare il contratto a completare l'onboarding completamente online tramite appunto il video riconoscimento con l'operatore, lo speed o la firma digitale. Passo la parola a Marta così vi fa vedere nel concreto l'integrazione all'interno del software. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ora condividerò lo schermo e quindi entriamo proprio nel software a visualizzare nella pratica queste funzionalità e le potenzialità che Sportive in Cloud offre a tutte le vostre associazioni per poter gestire al meglio i relativi corsi e le relative iscrizioni online o da segreteria. Confermatemi, vedete lo schermo? Benissimo, vedo che annoite benissimo. Ok, allora siamo proprio su Sportive in Cloud, il software in cloud che vi consente proprio di gestire non solo la vostra contabilità dell'associazione ma anche proprio poter gestire da un punto di vista operativo le iscrizioni ai vostri corsi, alle vostre attività, agli eventi o l'iscrizione associativa appunto alla vostra associazione. Sportive in Cloud è un software appunto in cloud con il quale vi accederete tramite una semplice username e una password. Si possono andare a personalizzare diversi profili di accesso e quindi potrete appunto creare e adattare in base alle vostre esigenze le utenze dei vostri collaboratori. Questo ci consentirà di andare ad operare in maniera semplice e appunto collegata all'interno di questo ambiente. Questo ambiente che, come abbiamo detto prima, è collegato, integrato al sistema di pagamenti digitali di Team System, TSPay. E proprio dalla dashboard vedete come è presente questo widget che ci consente di andare a scoprire tutte le varie informazioni e seguire i passaggi. Ovviamente in questo ambiente demo sono già integrata, quindi non troverete proprio attiva in cassa, ma troverete già delle informazioni chiave. Però ecco, direttamente dall'ambiente di Sportivi potrete scoprire tutte le informazioni e procedere con la procedura di attivazione. Sportivi in Cloud consente proprio di andare a tenere traccia di tutte le iscrizioni dei nostri soci, tesserati o partecipanti in generale. Infatti disponiamo proprio di una sezione dedicata all'archivio di tutte le nostre anagrafiche che verrà aggiornata in tempo reale sulla base delle iscrizioni che otteniamo e che confermiamo definitivamente e sulla base anche degli inserimenti che andiamo ad operare in maniera manuale. Questo appunto è l'elenco di tutti i nostri soci, tesserati, volontari, partecipanti, collaboratori e all'interno di una specifica anagrafica, prendo la mia per comodità, troviamo proprio molte informazioni collegate alla stessa. Ad esempio io sono socia ma sono anche tesserata all'associazione e come vedremo avrò delle iscrizioni ai miei corsi, alle mie attività collegate. Iscrizioni che possono provenire da un form online oppure create direttamente da voi dalla segreteria. All'interno della scheda anagrafica poi potrete archiviare dati anagrafici, dati di contatto, dati sanitari legati proprio ad esempio alla visita medica e alla scadenza relativa. Questi dati proverranno direttamente dal form online che l'utente finale o il genitore del nostro atleta o allievo andrà a compilare. Quindi ci sarà già una prima fase di semplificazione della vostra attività di reperimento delle informazioni e di mantenimento proprio perché è l'utente finale che inserisce in un form il dato e poi io con un clic e dopo lo vedremo vado a registrare l'anagrafica o aggiornare un'anagrafica già presente. Inoltre all'interno della scheda anagrafica ci sono ulteriori dati chiave legati proprio alla stessa come i dati legati ai tutori, importante proprio ai fini della ricevuta che verrà riproposta al termine della registrazione contabile. Quindi è tutto all'interno di ogni scheda anagrafica. Il focus di questo incontro è proprio la gestione dei corsi da un punto di vista proprio operativo di tutti i nostri corsi e delle iscrizioni. Infatti noi prevediamo tramite proprio delle funzioni dedicate la possibilità di parametrizzare in autonomia tutti i corsi, gli eventi, le attività della nostra organizzazione e personalizzarle proprio in termini di rate, di numero di partecipanti, di modalità di pagamento richieste per quel determinato corso fino ad arrivare a gestire le iscrizioni online oppure da segreteria e tutte le reportistiche collegate alle iscrizioni in entrata che poi visualizzeremo. All'interno dello specifico corso che possiamo personalizzare grazie alle differenti tab messe a disposizione possiamo definire ad esempio per questo corso i pagamenti della quota. Quota che può essere tramite un'unica soluzione diretta e quindi poi io durante la compilazione del form online posso pagare nelle differenti modalità messe a disposizione oppure tramite un pagamento rateale. Quindi direttamente all'interno di questa maschera io associazione definisco le rate, l'importo, la data è appunto di scadenza e se voglio posso definire appunto l'attivazione dell'incasso automatico successivo per queste rate. Quindi all'interno proprio di questo ambiente potete una volta collegato Team System Pay andare a sfruttare le funzionalità previste di addirittura incasso automatico e quindi non dovete più occuparvi di andare a richiedere mese per mese, trimestre oppure ogni sei mesi quella determinata rata perché direttamente TS Pay si occuperà di questo per voi e all'interno di Sportivi vedrete proprio il monitoraggio dello stato di queste varie rate. Inoltre potrete appunto attivare tutte le differenti modalità di pagamento che prevedete, appunto anche Paypal integrato con Team System Pay. Se ad esempio noi vogliamo iscriverci online assegniamo questo link per l'iscrizione online che potrete comunicare tramite social, mail oppure caricare direttamente nel vostro sito. Il form è un form che poi può essere personalizzato in termini di dati che andiamo a richiedere al nostro utente finale e proprio in base alla data di nascita il software riconoscerà anche la necessità di richiedere i dati del genitore che poi verranno salvati in automatico nella scheda anagrafica come vi ho mostrato prima. Andiamo insieme a compilare un'iscrizione e inserisco i miei dati per comodità e vi mostro tutta la procedura per gestire appunto al meglio la mia iscrizione in entrata e i miei pagamenti. Vado ad inserire ad esempio, qui mi viene richiesto se voglio il trasporto per questo determinato corso evento, no, sono autonomo e voglio un gadget, sì la t-shirt. Acconsento la gestione della privacy che può essere adattata e personalizzata con il vostro testo o caricato il link che riporta la vostra pagina del sito. Continuiamo nella procedura e nella seconda maschera mi viene chiesta la modalità con il quale io voglio pagare questa determinata attività. Se decido di pagare tramite un'unica soluzione, una quota unica, troverò appunto il dettaglio dell'importo e confermando potrò procedere alla scelta della modalità di pagamento prevista tramite contante, bonifico, Paypal oppure tramite appunto carta di credito e di debito mediante Team System Pay. E se ho la possibilità di andare a monitorare nell'esatto momento la mia dashboard di Team System Pay, vedrò al termine dell'iscrizione l'incasso avvenuto con successo. E in Sportivi in Cloud, poi vi mostrerò rientrando nell'ambiente proprio di back office, vi mostrerò come viene segnalato appunto questo incasso già avvenuto praticamente. Nel momento in cui io invece scelgo, ed è quello che faremo, la modalità rateale, vengono riportate a video le differenti rate con le scadenze riportate dalla nostra segreteria e ovviamente nel caso in cui io faccio un'iscrizione con una data posteriore alla prima scadenza verrà nella prima appunto rata inserita anche quella determinata, quel determinato importo. Vado a confermare la modalità scelta e in questa terza fase trovo una conferma dell'iscrizione con tutti i dati che ho caricato, il dettaglio dei servizi e dei corsi scelti e appunto una specifica del mio piano rateale, che verrà ad ogni modo riepilogato anche tramite una prima mail automatica che partirà al termine dell'iscrizione. Io compilerò l'iscrizione, otterrò nella mia casella di posta una mail riepilogativa direttamente dall'associazione. A questo punto posso scegliere se pagare tramite carta o tramite ad esempio a debito diretto in conto. Scelgo tramite carta di credito e procediamo con proprio il pagamento della nostra quota. Vado ad inserire i dati ovviamente fittizi e vedremo come all'interno della piattaforma, poi mettiamo una data che non sia già passata e vedremo come proprio all'interno della piattaforma l'iscrizione è già entrata, proprio nella sezione delle iscrizioni online. Ecco che rientriamo lato back office all'interno di Sportivi in Cloud e nella sezione dedicata proprio al reperimento delle iscrizioni, iscrizioni online, troviamo all'interno proprio di questo elenco la mia iscrizione o le altre iscrizioni in entrata con già un primo dettaglio della tipologia di pagamento scelta, si è stata pagata, si è andato tutto a buon fine già in questa prima fase e appunto l'ho stato in attesa proprio perché io associazione non ho ancora registrato la mia anagrafica di tesserato o di socio e non ho confermato l'iscrizione a questo determinato corso o camp o evento, quindi tutto quello che poi è la vostra attività che può essere appunto di basket, di calcio, di volley, tutto è replicabile ovviamente all'interno di Sportivi in Cloud e dei form online. Io vi ho mostrato una base ma si può tranquillamente adattare alle vostre esigenze con la definizione del vostro numero di rate, dei vostri dati da richiedere al determinato tutore o all'iscritto futuro e quindi ovviamente vi daremo tutte le informazioni chiave tramite i nostri formatori di riferimento. Ritorniamo alla nostra iscrizione, quindi questa appunto è la mia iscrizione online in entrata, visualizzo il dettaglio di che cosa ho scelto all'interno del form online e posso con un clic andare a registrare l'anagrafica. Ecco che il software trova se l'anagrafica è già presente e quindi posso scegliere di andare a aggiornare i determinati dati che sono variati. Aggiorno l'anagrafica, quindi mi viene salvata in automatico all'interno della scheda dei soci partecipanti tesserati in generale e posso in questa fase confermare l'iscrizione del mio socio tesserato a quel determinato corso ad esempio di volley, ad esempio di calcio o di tutte le vostre attività. Quindi confermo l'iscrizione e questo mi aiuterà anche in una fase successiva alla gestione dell'incasso effettivo e della contabilizzazione del movimento anche a monitorare la situazione dei miei iscritti tramite diversi report e dopo li visualizzeremo. Quindi è fondamentale confermare le iscrizioni non solo per voi per avere un quadro completo della situazione ma anche proprio ai fini di reportistiche. L'iscrizione quando è confermata ci dà la possibilità all'interno della tab scadenze di andare a monitorare la situazione delle scadenze. In qualsiasi momento anche fra un mese, due mesi io posso riaccedere all'iscrizione specifica di Marta e monitorare la situazione, quindi vedrò mano a mano come queste rate verranno incassate. Se noi ritorniamo il primo di novembre vedremo che la terza rata è stata incassata tramite Team System Pay e quindi in questa fase io potrò decidere di procedere con la contabilizzazione del movimento. Quindi posso scegliere di contabilizzare e seguire la procedura proposta o addirittura potrò anche, e in questo ambiente demo non è adattato, potrò anche scegliere se vorrò di contabilizzare in maniera automatica il movimento, quindi non compilando questa determinata schermata ma sfruttando proprio la procedura di registrazione da parte nostra del movimento contabile. Quindi entrerà direttamente nella lista dei nostri movimenti, direttamente nel bilancio, nel rendiconto economico, la nostra quota e nel rendiconto finanziario il nostro incasso tramite banca e quindi ovviamente tramite la modalità carta di credito. Ad esempio andiamo a svolgere la classica contabilizzazione perché magari voi associazione all'inizio della vostra operatività con sportivi e con le iscrizioni online vorrete mantenere un certo controllo e quindi ve lo manteniamo. Andiamo a selezionare la causale e che ci produrrà proprio una ricevuta. possiamo andare a riproporre il nostro conto finanziario di riferimento, la nostra modalità di pagamento con il quale abbiamo incassato e sono tutti i dati che verranno poi riproposti nella nostra ricevuta e andiamo a selezionare i conti dedicati alle spese bancarie. Registriamo, quindi abbiamo visto che con tre clic abbiamo registrato il movimento contabile che riprende due quote, le due rate, quella scaduta e quella attuale di oggi dell'acconto. Quindi non mi va a produrre due ricevute differenti ma un'unica con il dettaglio dei due prodotti, diciamo dei due servizi che andiamo ad offrire. Ecco che direttamente in questa maschera riepilogativa del movimento, dove proprio nella tab dedicata troviamo anche il movimento in partita doppia, visualizziamo nelle stampe la ricevuta. Questa ricevuta può essere personalizzata, quindi ovviamente potrete inserire il vostro logo, la vostra firma, riadattare il titolo, andarla insomma ad adattare alle vostre esigenze. E questa ricevuta poi può essere direttamente inviata tramite mail all'indirizzo dell'anagrafica in questione. Anche questa procedura con la funzione di contabilizzazione invece più automatica che noi prevediamo, verrà appunto automatizzata, verrà elaborata la ricevuta e inviata la mail direttamente nel momento in cui ottengo l'incasso e quindi viene rielaborato tramite i nostri sistemi Team System Pay e Sportivi in Cloud. Quindi ci sono due fasi, due possibilità di gestione contabile dei nostri movimenti, chiave, di incassi, delle quote associative appunto di tesseramento o di iscrizione. Le iscrizioni online o le iscrizioni da segreteria, proprio perché io posso anche creare un'iscrizione direttamente all'interno del mio ambiente senza far passare l'utente tramite un form online, perché magari io sono un'associazione che offre un servizio ad un pubblico che non richiede, non ritiene opportuna l'iscrizione online. Ecco che possiamo tranquillamente gestire un'iscrizione direttamente dalla segreteria, la creeremo noi. Basta selezionare l'anagrafica in questione che dovrà essere censita all'interno del nostro ambiente oppure la possiamo inserire in questo esatto momento e andremo a scegliere il corso di riferimento. Quindi vado a selezionare il corso dall'elenco di tutte le varie attività che svolgiamo, inserisco e quindi ho una maschera dove mano a mano vado a compilare, scelgo io la modalità con il quale l'utente ha comunicato di pagare, quindi tramite ad esempio una quota in un'unica soluzione, vuole il soggetto anche la quota associativa quindi diventerà socio, non desidera il trasporto e vuole la borraccia in questo caso di servizio di richiesta aggiuntiva nel corso. Vado ad aggiornare, come vedete in pochi clic ho creato l'iscrizione come quella di prima online, ma l'ho creata io in segreteria. A questo punto nella sezione scadenze troverò appunto le varie rate e addirittura nel caso appunto di gestione rateale, posso andare ad attivare direttamente dall'iscrizione l'incasso automatico, perché immaginiamo, quindi mi calo ancora di più nel vostro pratico, immaginiamo l'utente si presenta in segreteria, non richiede l'iscrizione online, richiede direttamente l'iscrizione, quindi noi dalla segreteria possiamo fare la procedura che ho appena effettuato e se l'utente vuole procedere poi con il pagamento delle rate tramite l'incasso automatico, tramite carta o tramite addebito diretto sul conto, noi dalla segreteria possiamo seguire la procedura di attivazione incasso automatico, quindi verranno mostrati le metodologie di pagamento già salvate nell'anagrafica, se magari è un rinnovo della quota associativa o di iscrizione, oppure io potrò in questo esatto momento andare ad aggiungere una nuova carta, un nuovo codice, un nuovo IBAN e seguire la procedura successiva, quindi ho tre modalità di condivisione del codice, può essere tramite l'inquadratura del QR code e quindi direttamente l'utente può inquadrare questo QR code o apriamo il link e lo inviamo, possiamo appunto copiarlo, inviarlo tramite servizi di messaggistica determinati oppure farlo inviare tramite mail, quindi l'utente riceverà una mail e seguirà la procedura riportata tramite mail, quindi direttamente dalla segreteria io posso anche attivare l'incasso automatico per quelle determinate rate e la maschera mi riproporrà ovviamente aggiornata per le rate successive mensili l'attivazione tramite la carta che l'utente ha caricato o selezionato tramite appunto le modalità viste prima, quindi ho una doppia possibilità. Inoltre le iscrizioni vengono tutte salvate e monitorate in questo iscrizioni, questo archivio completo che mi dà la possibilità grazie ai diversi filtri di ricerca di poter rintracciare tutte le iscrizioni ad esempio del mio camp estivo, tutte le iscrizioni del mio corso di ginnastica. Ecco che vedo l'elenco completo, posso accedere in qualsiasi momento all'iscrizione e monitorare le varie cartelle e le varie scadenze come abbiamo visto in precedenza. Posso scaricare in qualsiasi momento questo elenco tramite un file Excel. Queste iscrizioni e quindi tutte le relative informazioni caricate dagli utenti vanno a popolare come vi dicevo in precedenza diversi report. Posso monitorare la situazione delle mie scadenze, quindi andare a selezionare uno o più filtri di ricerca, ad esempio selezioniamo il corso in questione e andiamo a visualizzare proprio il dettaglio con le scadenze riportate anche evidenziate e la relativa possibilità di stampare e scaricare il file in PDF e in Excel anche già suddiviso proprio per socio, molto importante. Inoltre posso direttamente dal pulsante invia mail inviare una promemoria a tutti coloro che rispecchiano il filtro di ricerca con il dettaglio delle scadenze relative ai pagamenti ancora da effettuare e quelli già effettuati. Quindi ho un'altra funzionalità per comunicare con l'utente finale e avere sempre sotto controllo la gestione dei miei incassi. Inoltre mi viene data anche la possibilità di elaborare un report dedicato all'elenco di tutti i partecipanti al mio determinato corso, camp o attività. Per il camp addirittura io posso selezionare la settimana in questione e quindi monitorare la situazione dei partecipanti anche con le modalità di partecipazione scelte, se ad esempio appunto ho selezionato full time o part time e voglio nel full time il servizio mensa, con il relativo esporto tramite Excel o tramite PDF. Ecco qui appunto riportato l'elenco di tutti i partecipanti. Inoltre posso anche sfruttare proprio la funzione di salda conto delle rate massivo, quindi io posso accedere alle iscrizioni, saldare le rate se appunto non ho iscrizioni con incasso automatico, ecco mi riferisco a quelle, se ho appunto delle iscrizioni tramite bonifico ad esempio posso anche decidere di saldare massivamente delle rate perché ho verificato nel mio estratto conto e questo mese Mario Rossi, Giuseppe Verdi e tutti i partecipanti al mio corso mi hanno pagato la quota. Ecco che io posso andare a monitorare la situazione tramite proprio questo salda conto delle rate, seleziono il mio corso o altri filtri di ricerca e il software mi riporta l'elenco completo di tutte le iscrizioni, le rate ancora aperte e posso già procedere con l'incasso di questa determinata rata, di queste determinate rate e quindi arrivare a una contabilizzazione, a una elaborazione della ricevuta e all'entrata a tutti gli effetti nel bilancio delle mie quote. Questo appunto se io non seleziono l'incasso automatico, se svolgo proprio un'iscrizione basica, avete sempre la doppia possibilità, non venite vincolati ecco da un'unica modalità di pagamento. Inoltre le iscrizioni in entrata consentono anche di poter elaborare dei report legati a tutti i pagamenti già effettuati oppure alle richieste aggiuntive che vengono messe a disposizione dalla segreteria. Quindi io posso ad esempio richiedere in questo report tutti coloro che mi hanno selezionato l'entrata anticipata o il servizio di trasporto, ricerco e per tutti i corsi dove è previsto il trasporto posso visualizzare le scelte dedicate, tutte poi estrapolabili in file Excel. Ritornando alla scelta della modalità di pagamento tramite incasso automatico e quindi ho selezionato ad esempio nel form online, come abbiamo fatto prima, la carta di credito, ho pagato e quindi avrò le mie scadenze successive mensili. La segreteria può tramite un report dedicato nella contabilità andare a monitorare anche la situazione di insoluto, quindi prevediamo anche la possibilità direttamente dall'ambiente di monitorare la situazione degli insoluti avvenuti. Ovviamente questo è un ambiente demo, non troviamo nessun insoluto perché tutto va a buon fine. Però sapete che avete proprio questa possibilità dove vi viene proprio anche suggerito e riportato l'esito e tutto quello che possiamo fare poi per risolvere la questione, quindi anche andare a disabilitare per quel determinato movimento l'incasso automatico e registrarmi in contabilità la quota e procedere con la mia normale tenuta contabile quotidiana. Inoltre un altro report molto utile in questi casi è proprio la possibilità di visualizzare le statistiche di questi incassi automatici delle iscrizioni. Ecco che se ad esempio andiamo a visualizzare per il determinato corso la situazione degli incassi posso proprio vedere in tutte le varie colonne dedicate i dati fondamentali, la modalità di pagamento, gli importi, gli importi della commissione, lo stato legato all'incasso, se è già stato eseguito il pagamento e quindi contabilizzato oppure no. In questa fase io posso andare direttamente da qui a collegarmi al movimento contabile o scaricare la ricevuta oppure registrare il movimento contabile. Quindi ci sono, come abbiamo visto, diverse posizioni in cui io agevolmente posso registrare il mio movimento contabile se ho appunto incassato subito mediante Team System Pay, se non ho scelto la contabilizzazione automatica. Questo vi dà modo, e ovviamente è tutto aggiornabile, quando io registro da questa posizione la quota di Giuseppe Verdi, ovviamente la grafica si aggiorna, l'iscrizione si aggiorna. E questo vi dà modo proprio di avere tutto sotto controllo. Seguo la procedura, richiamo ad esempio l'incasso della mia quota, tutti i vari step che abbiamo visto prima. Vado a scegliere il conto dedicato, questo si può anche poi bloccare e quindi la contabilizzazione diventa sempre più semplice. Ecco qui il movimento contabile. Vediamo proprio i dati della partita doppia, la ricevuta che si può scaricare e che si può inviare tramite mail. Questa è appunto l'iter completo di gestione delle vostre iscrizioni, di monitoraggio dei vostri incassi, andati a buon fine, contabilizzabili oppure andati in insoluto e quindi comunque una situazione risolvibile. Tutti questi dati entrano direttamente nella nostra contabilità e nella nostra lista dei movimenti generali, come vi dicevo in precedenza. Quindi se vado proprio a selezionare tutti i movimenti del mio esercizio in questione, vedrò mano a mano tutto quello che è entrato effettivamente. E non solo iscrizioni e quindi incassi di quote, ma ricordiamo ovviamente Sportivi è un software contabile, quindi tutti i movimenti di fatture in entrata, fatture in uscita, quindi le fatture di sponsorizzazioni che svolgiamo, gestione di compense ai nostri istruttori, collaboratori, rimborsi spese, pagamenti di spese minute. Tutto cederà all'interno della lista dei movimenti, scaricabile poi in formato PDF o Excel. Anche questo è filtrabile per i numerosi filtri di ricerca. E questi movimenti poi mi vanno a sbloccare determinati report contabili, puramente contabili, come le schede contabili, posso monitorare la situazione specifica di una determinata quota di ricavo, posso monitorare la situazione dei miei crediti, dei miei debiti, posso andare a monitorare la situazione dei miei registri IVA. E arrivo infine alla elaborazione del mio bilancio d'esercizio per chi è in contabilità ordinaria per un principio di competenza o arrivare alla rendicontazione economica e finanziaria per chi è in contabilità semplificata e quindi segue un principio di cassa. Per elaborare un bilancio mi basta semplicemente richiamare l'arco temporale in questione, posso anche effettuare un confronto con l'anno precedente, ricerco, ottengo a video appunto il mio piano dei conti personalizzabile, come vi diceva in precedenza Serena, e scaricabile poi in file PDF e Excel in diversi formati, a sezioni contrapposte o comunque a confronto, se ho selezionato appunto l'esercizio a confronto. E vi mostro anche il rendiconto economico, ecco qui, vado a selezionare sempre l'esercizio 2024 in questione e sia a video, ma anche nelle stampe visualizzo anche la separazione della porzione di quota istituzionale e commerciale e posso monitorare la mia rendicontazione tramite PDF o Excel, anche situazione mensile, molto comodo, vi mostro il PDF e ecco qui il vostro rendiconto economico dove monitoriamo le nostre quote di attività, i nostri costi, le nostre spese, tutto poi elaborabile tramite un riepilogo dedicato. Ovviamente anche il rendiconto finanziario che ci consente di andare a interrogare il software sui conti di banca e di cassa collegati appunto a sportivi e il monitoraggio di una piccola situazione dedicata ai crediti e ai debiti che è sempre utile anche per chi è in contabilità semplificata e che dovrebbe appunto avere tutto sempre sotto controllo e a zero, però può succedere che andiamo a dimenticare qualche parte di registrazione contabile e quindi ecco qui che riusciamo a monitorare la situazione. Questo appunto è un po' la panoramica, il giro che Sportivi in Cloud ci consente di ottenere per quanto riguarda la gestione delle nostre iscrizioni, dei nostri corsi e tutto quello che poi è fondamentale da tenere sotto controllo per noi associazioni che ogni giorno andiamo ad avere tanti moduli, tanti magari certificati medici e quindi la scadenza che possiamo invece in questo modo archiviare e collegare all'anagrafica, le ricevute che si possono direttamente lavorare dal software e inviare tramite mail, quindi riduco anche il cartaceo, digitalizzo il più possibile le mie operazioni. Ecco passo la parola a Serena se c'è qualche domanda e rispondo. Grazie Marta, allora mentre ti lascio un attimo riprendere fiato ricordo a tutti che se desiderate ricevere delle informazioni commerciali su Sportivi in Cloud oppure se avete già Sportivi in Cloud e volete attivare i pagamenti digitali con Tspay potete lasciare in chat i vostri riferimenti, vi chiediamo nello specifico una mail e un telefono e vi ricontattiamo successivamente al webinar. Ora che l'argomento era particolarmente sentito lo sapevamo, infatti abbiamo un bel po' di domande, ho cercato di raggruppare un po' quelle magari più generiche e più sentite perché alcune si sono ripetute. Allora Susanna ci chiede se l'utente ha scelto il pagamento delle rate con carta di credito ma sulla sua carta non c'è disponibilità, cosa succede? Qui non so se volete rispondere o Marta o Matilda. Sicuramente Tspay vi informa che il pagamento purtroppo non è andato a buon fine quindi voi siete aggiornati sullo stato del pagamento. Se il cliente ha inserito quella carta per un addebito diretto delle rate per esempio se per una rata non c'è capienza all'interno della carta ovviamente quella rata non sarà addebitata per mancanza di fondi e sarete informati perché Tspay va a cercare di addebitare su quella carta, l'addebito non va a buon fine e sia sulla dashboard di Tspay dove potete monitorare tutti gli incassi ed eventualmente anche cliccare sul pulsante ritenta debito sulla rata, sarete informati che quella rata non è andata a buon fine. Comunque voi non dovete preoccuparvi perché il controllo comunque lo fa Tspay. Ecco e mi collego alla spiegazione di Matilda dicendo che in sportivi poi viene riportato questo esito che appunto è sotto controllo da Tspay e quindi avete anche dal lato di sportivi questa risposta di mancato incasso. Vi faccio un esempio pratico, se per esempio il cliente ha utilizzato una carta prepagata per un pagamento a rate e i giorni in cui gli deve essere addebitata quella rata non si è ricordato di ricaricare la sua prepagata e magari poi vi informa e vi dice guardate che ho caricato la mia prepagata, ora ho i fondi, potete andare nella dashboard di Tspay nella sezione piani in corrispondenza appunto della rata mancata potete effettuare un ritenta a debito quindi in quel caso se c'è questa particolare casistica potete anche ritentare l'addebito dalla dashboard Tspay. Perfetto, poi Ilaria ci chiede invece in caso di minori iscritti ai corsi la ricevuta riporta il nome del genitore tutore? Sì, rispondo io. Sì, riporta direttamente i dati nella ricevuta del tutore viene riportato in primis nella scheda anagrafica il dato del tutore 1 e del tutore 2. Possiamo anche scegliere direttamente nel movimento contabile la porzione dedicata al tutore 1 e al tutore 2 perché in determinati casi appunto dobbiamo gestire questa suddivisione. Quindi sì, è previsto nella ricevuta il richiamo del tutore. Ok, questo invece è più per Matilda. Ivan chiede se l'utente finale che vuole pagare con Tspay deve creare un account. No, assolutamente. L'utente finale non ha necessità di creare nessun account. Per capirci, non è come Paypal nel quale l'utente finale deve avere un account Paypal. In questo caso l'utente non deve avere un account Tspay ma può utilizzare i suoi metodi di pagamento andando ad inserire gli estremi direttamente nella pagina di checkout del pagamento che vi ha mostrato prima anche Marta andando ad inserire quindi l'Iban e l'intestatario del conto per la debito diretto in conto, gli estremi della carta per il pagamento con carta di credito oppure se invece paga con Paypal si loggerà il suo account Paypal. Però con Tspay non ha appunto l'utente finale, non ha alcun rapporto se vogliamo. Ok, unisco poi due o tre domande che più o meno vertono sullo stesso argomento. Ti faccio una domanda unica che raggruppa tutto per Marta questo. Allora, più di qualcuno chiede se esiste un'app che consente di effettuare pagamenti, qualcuno chiede, qualcuno chiede se consente di caricare certificati medici, quindi direi che possiamo raggruppare questa domanda. Sì, la possiamo benissimo raggruppare e rispondo che è possibile andare a collegare al nostro software contabile, anche una gestione di app dedicata ai nostri soci, tesserati o iscritti e direttamente dalla loro utenza i soci potranno non solo visualizzare tutti i corsi, le attività che voi avete attivato, ma iscriversi a questi corsi, ricevere le comunicazioni o dei messaggi che voi volete inviare a tutti coloro che partecipano a un determinato corso o quella determinata persona, possono caricare determinati documenti, tra cui il certificato medico o la carta d'identità e quindi è un'interfaccia fra la segreteria e l'utente finale. Quindi sì, è possibile. Se avete ulteriori informazioni, se siete già clienti, potete appunto scriverci mediante il canale di assistenza o tramite il formatore che vi segue e quindi andate poi a scoprire la funzionalità in maniera ancora più dedicata. Sì, aggiungo su questa cosa, aggiungo una cosa io Marta, ai primi di novembre prevediamo proprio un webinar specifico proprio per questa app, questo servizio. Vi ho quindi messo in chat il link che rimanda alla nostra pagina eventi in modo che potete rimanere informati e quindi poi eventualmente se siete interessati iscrivervi a questo webinar. Ok, andiamo avanti con un paio di domande, vi rubiamo giusto qualche minuto in più perché sono delle domande molto interessanti. Alice ci chiede se è possibile personalizzare il form di iscrizione online, ad esempio chiedendo di aggiungere, di accettare il regolamento della palestra oppure l'autorizzazione alle riprese, alle foto. Sì, assolutamente sì, come avete visto prima nel mio form avevo solo ad esempio la privacy, accettabile o meno. Lì si può poi personalizzare con appunto il dettaglio della privacy, regolamento, testo, dichiarazione e ad ogni modo potrete anche con la procedura di iscrizione inviare dei moduli se gestite ancora tutto a livello cartaceo, quindi inviare dei moduli, farli firmare, reinviarli, quindi sì, si può tranquillamente gestire questo. Ok, mi ricollego a questo per fare un'ultima domanda. Questa è un'associazione sportiva che ci chiede, se ci sono attività con quote di iscrizione diverse, come è gestito? Più attività con importi diversi per la quota. Credo che la domanda fosse questa. Nella scelta, ok, nella scelta del form online, provo a immaginare, ecco, se Serena hai compreso un altro punto, dimmi pure. No, credo che sia questa eventualmente, siccome la domanda tra l'altro è stata fatta in anonimo, quindi se il partecipante che l'ha fatta è ancora collegato, se vuole darci qualche specifica in più, io l'ho comunque, sì, guarda, tipo pallavolo 200 e calcio 300, scrive. Ok, sì, allora, non c'è problema, nel momento in cui andiamo a personalizzare l'iscrizione per il calcio e l'iscrizione per la pallavolo, poi si potrà personalizzare un form unico di iscrizione, dove poi io selezionerò se pallavolo o se calcio. E da lì usciranno tutti i listini, chiamiamoli così, tutte le scelte di quote che, in base all'attività, io poi, quindi calcio o pallavolo, posso scegliere. Se ad esempio seleziono pallavolo, potrò anche scegliere il numero di allenamenti e quindi in base al numero di allenamenti la quota varierà, quindi sì, è possibile. Perfetto, allora, su questa domanda più o meno vedo che abbiamo risposto a tutto, c'era qualcosa di un po' più specifico, poi vi contatteremo separatamente. Quindi su questa domanda io concludo, ringrazio Marta e Matilda per la loro esposizione, ringrazio tutti voi per aver partecipato. Nei prossimi giorni riceverete una mail con le slide e la registrazione di questo webinar. Poi, come ho segnalato anche in chat, saremo presenti il 22 e 23 ottobre a Move City Bergamo, quindi se siete in zona vi invito a venire a trovarci perché, oltre che trovare sia me che Marta, vi potremo parlare di tutte le soluzioni a disposizione appunto delle realtà sportive. Quindi, un saluto a tutti e grazie per la partecipazione. Grazie mille a tutti. A voi. Ciao e buon lavoro. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.